Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata del Caffè Letterario. Oggi parliamo di un romanzo straordinario, sto parlando di Madame Bovary di Gustave Fleubert, però questa, vi dico subito, non è una recensione del libro e non è neanche un riassunto, quindi non vi dirò di che cosa parla questo libro. Andate a vedere voi, insomma, trovate in internet una marea di recensioni. No, oggi noi ne parliamo come se fosse una lezione di letteratura a scuola, quindi cerchiamo di capire bene quali sono i temi principali di quest'opera e soprattutto che cosa ci voleva dire l'autore con questo libro. Quindi andremo ad analizzarlo all'interno e cercheremo di capire quali sono i significati più importanti, sia per i contenuti, sia per lo stile, qual è stato il cambiamento epocale che ha portato questo romanzo all'intera letteratura moderna, perché questo libro segna un punto di svolta fondamentale tra quello che è stato prima e quello che verrà dopo. Quindi sarà anche una carellata in questo senso dal punto di vista letterario, tratteremo di vari autori, faremo delle citazioni, cercheremo di capire in che modo questo libro è collegato sia con il romanticismo sia col naturalismo francese e vedremo che questo libro anticipa anche moltissimi temi del decadentismo. Quindi se vi fa piacere seguite questa lezione perché è veramente molto interessante, un romanzo che amo e a cui tengo moltissimo. Allora innanzitutto contestualizziamo un secondo soltanto l'opera, in che periodo siamo? Ora, Flaubert scrive questo libro nel 1956 appuntate però, escono appuntate su una rivista francese, la Revue de Paris, la Revue de Paris nel 1956, quindi appuntate, vedete già questo dovrebbe farvi accendere una lampadina, appuntate perché? Perché lo stesso Flaubert deve seguire i nuovi gusti del pubblico, è inevitabile, appuntate per creare suspense, per generare curiosità e soprattutto per guadagnare di più e soltanto in volume uscirà l'anno successivo nel 57, quindi siamo esattamente alla metà dell'Ottocento e stiamo iniziando la seconda metà dell'Ottocento. La storia è ambientata soprattutto tra gli anni 30 e gli anni 40 dell'Ottocento, quindi siamo tra il 1830 e 40, ma la storia, sto parlando della storia, inizia nel 1827 e finisce poi nel 1856, lo stesso anno in cui poi lui la pubblicherà. È interessante questa cosa. Opera per la quale poi Flaubert venne accusato di immoralità e fu portato in tribunale l'autore e fu accusato appunto di avere scritto cose immorali. Perché? Perché la storia di Emma Bovary ovviamente parla di adulterio, lo vedremo, ci sono ben due uomini con cui lei tradisce il marito e quindi viene accusato di immoralità. In realtà non ci sono scene sessuali esplicite, nulla viene detto, è tutto estremamente, come posso dire, così velato, ecco, è tutto sottinteso, lo fa intendere. Ci sono questi incontri d'amore galanti, queste tresche amorose, però non è sessualmente esplicito. Però per l'epoca fu comunque uno scandalo, poi venne assolto da queste accuse, però ecco, è interessante perché venne appunto incriminato. Quindi pensate anche a come siano cambiate le cose nel corso del tempo. Ecco, però adesso cerchiamo di capire quindi che tipo di opera è. Perché molti si sono chiesti, ma è un'opera romantica? È un'opera naturalistica? È tutte e due? E come lo possiamo inquadrare? Beh, innanzitutto vi dico che questo libro non si può inquadrare in un unico, in un'unica categoria, non si può inserire in un'unica corrente letteraria, perché adesso vedremo che questo libro può essere letto a strati. E lo cito perché molti altri studiosi ne parlano. Questo libro è scritto a strati. Cosa voglio dire? Che c'è un continuo, un progressivo svelamento di particolari, di dettagli. Quindi si entra in medias res a poco a poco e l'autore vi fa capire le cose un po' alla volta. Quando descrive un paesaggio ve lo descrive in maniera progressiva, cioè a poco a poco lui vi fa vedere determinate immagini, quindi vi fa entrare sempre di più, per esempio nel paesino a Yonville, dove è ambientata per la maggior parte quest'opera. Ed è fatta a strati perché si penetra anche all'interno del personaggio, della sua psiche, della sua interiorità un po' alla volta. Quindi c'è anche un'introspezione però sempre graduale. Ecco, questo romanzo è proprio fatto a strati. Questo è interessante e ci sono molte immagini che lo ricordano, perché abbiamo la torta del matrimonio che è fatta a strati, a più strati, il berretto di Charles quando va a scuola che è cucito a più strati. Ci sono vari materiali diversi, le bare in cui viene messa Emma alla fine quando muore sono tre bare una dentro l'altra, come le scatole cinesi. Ecco, questo libro può essere letto a strati, questo è interessante, quindi non c'è un'unica chiave di lettura e lo vedremo un po' alla volta, entriamo all'interno della storia, ma soprattutto ci sono vari punti di vista diversi. Non vi preoccupate, faremo un po' tutto. Una lezione breve, voglio sintetizzare, però cerchiamo di toccare, vedete, i punti più importanti. Non è una recensione, non vi dico il riassunto, non vi faccio la sintesi dell'opera, andiamo ad analizzarla, questo è interessante. La cosa più importante è questa, capire perché Flaubert scrive un'opera del genere, perché scrivere Madame Bovary? Beh, innanzitutto per l'ambiente, per i personaggi, per la storia stessa che viene raccontata, questo è un romanzo realista, non è più romantico, va bene? Perché? Perché naturalmente siamo in un paese di provincia, tant'è vero il sottotitolo stesso del libro, non è Madame Bovary, il sottotitolo è Costumi di provincia, vedete? Cioè le usanze, le tradizioni, quello che succede in provincia. Ecco, questo termine è fondamentale, perché Emma e Charles vivono in provincia, non vivono nelle grandi città metropolitane, questo è il nucleo del romanzo, perché Emma sogna la città, la sua chimera più grande è proprio Parigi, lei sogna la metropoli, la grande città tentacolare, la città colta del bel mondo, dei balli, delle feste, dell'alta società, lei sogna tutto quello che non potrà mai avere. Ecco, Emma incarna la crisi dell'Ottocento, incarna la crisi dell'uomo moderno, quella crisi che poi verrà trattata da tutti i poeti, da tutti gli scrittori, quella crisi che esploderà proprio nel Novecento, no? Pensiamo a Montale, il male di vivere, ecco, Emma incarna il male di vivere, è come se vive male e se percepisce questo malessere, questo splin, lei incarna lo splin di Baudelaire, lo stesso anno in cui esce Madame Bovary, escono i fiori del male di Charles Baudelaire e lei incarna lo splin di Parigi, anche se non vive a Parigi, questo lo splin, no? Questa malinconia, noi oggi la chiameremo depressione, questo senso di continua insoddisfazione, lei lo incarna e vive per tutta la vita in questo modo, lo dice in una frase del libro, adesso io non la prendo, però lo dice, dice ho vissuto tutta la vita ma non sono mai stata felice, non sono mai stata felice, perché vive questa condizione di malessere, allora perché scrivere l'opera? Perché Flaubert scrive questo libro? Beh è molto semplice, perché questo libro rappresenta la crisi dell'uomo moderno, l'uomo di metà ottocento è in crisi, soffre perché la malattia, poi vedremo che Emma si ammala, ovviamente una malattia interiore non è una malattia fisica, ma la malattia è il sintomo del disagio, ricordatevelo questo, la malattia quando un personaggio è malato, sia fisicamente ma soprattutto interiormente, significa che quel personaggio incarna la crisi, qualcosa che non funziona, è un sintomo di qualcosa che non va e cosa c'è che non va? Che l'ottocento, proprio guarda caso la metà dell'ottocento, è l'epoca in cui abbiamo che cosa? Abbiamo la seconda rivoluzione industriale, abbiamo ormai la diffusione dei battagli a vapore, quindi abbiamo nuovi mezzi di locomozione, l'ottocento è il secolo della ferrovia, tutti usano il treno, tantissimi romanzi, tante poesie parlano del treno, pensate a Zola, il treno diventa la betumen, la bestia umana, questo treno che si carica ancora di elementi romantici, perché anche se Zola è un naturalista, vedete, lo descrive ancora con questo retaggio, con questo strascico romantico, questo treno, questa locomotiva che ancora però ha qualcosa di demoniaco, poi c'è Carducci, l'inno a Satana, alla modernità, Satana è il progresso che incombe, che irrompe nella modernità, nella società, è questo treno che deturpa il paesaggio, che passa in mezzo alla campagna e distrugge tutto quello che c'era prima, pensiamo anche a Pascoli che invece descrive appunto il progresso come qualcosa che va a deturpare, che rovina quel paesaggio che non è più locus a menus in questo modo, è chiaro, è inevitabile, quindi ci sono tantissimi temi anche in Madame Bovary che poi ritornano, Madame Bovary, ecco perché vi ho detto si può leggere a strati non solo la storia ma anche proprio i suoi significati sono a strati, come la torta, come il cappello di Charles, va bene, come la bar, le tre bar in cui viene messa Emma, perché a strati? Perché vedremo adesso che Emma non è romantica e molti dicono che è ancora un personaggio romantico all'interno di un mondo borghese, non è vero, non è romantica, lei è romanzesca, è diverso e poi ci torniamo adesso su questo punto, lei è romanzesca, ci sono degli elementi romantici, ci sono degli strascichi romantici, ma questo ormai è un romanzo realista, naturalista, francese, per temi, per contenuto, per ambientazione, ma anche per aspirazioni, per ideali, Emma non sogna la vita inimitabile di D'Annunzio, non sogna di compiere egregie cose come faceva, come voleva fare Jacopo Ortis, come voleva fare lo stesso Foscolo e tutti i suoi personaggi, lei non è più il titano che sfida la società e che propone una soluzione alternativa, non c'è più niente di vate, lei non è il poeta vate che vuole guidare il popolo, che ha indicazioni, va bene, per poter guidare la nazione, non è detentrice di valori, questo è interessante, Emma è semplicemente una borghese, una borghese a tutti gli effetti e poi vedremo cosa intende per borghese Flaubert, perché questo concetto di cui si abusa molto non è chiaro, io vedo spesso anche gli studenti che non capiscono cosa significa veramente borghese, perché secondo me non viene spiegato, perché per Flaubert il borghese non è il classico uomo che appartiene alla classe media, quindi il borghese non è da identificarsi con l'avvocato, con il medico eccetera eccetera, bene con il notaio, quindi con tutti i membri della classe media, perché per Flaubert il concetto di borghese non è legato alla condizione economica, ma è una condizione mentale e spirituale, poi ci torno, quindi ha strascichi romantici, ma è anche realista, abbiamo visto, ma anticipa anche il decadentismo, perché Emma è decadente, anticipa la crisi dell'uomo moderno, perché dicevo nel secondo ottocento abbiamo la seconda rivoluzione industriale, abbiamo il progresso, la scoperta del petrolio, abbiamo l'elettricità, pensate a Parigi, abbiamo la vie lumière, tutta la via illuminata, abbiamo il vapore, i battelli a vapore, il secolo della ferrovia, abbiamo le esposizioni universali, pensate a quella del 1851 di Londra, al Crystal Palace, a fine ottocento, nel 1889 abbiamo l'esposizione quella di Parigi che viene costruita la Turifelle che poi non verrà mai più smantellata, va bene, quindi abbiamo un mondo, come dirà poi Verga, di banche, di imprese industriali, quindi un mondo in cui i borghesi pensano solo ed esclusivamente a produrre la logica del secondo ottocento e la logica del profitto, chi non lavora, chi non produce un utile è inutile, è da buttare via e infatti vedremo che gli artisti verranno emarginati, verranno esclusi da questa società e lo sappiamo bene, quindi vedete Madame Bovary anticipa tutte queste cose, poi faremo anche delle puntate sul naturalismo e sul decadentismo, quindi è un insieme di tantissimi elementi, non si può catalogare e dire questo romanzo è realista, no, è romantico, no, è decadente, è un mix di tutte queste cose, possiamo leggerlo proprio a strati, è una stratificazione di temi, di contenuti ma anche di stili e di significati soprattutto, lo stile per Flaubert è ancora più importante dei contenuti, lui ci metteva delle giornate intere per scrivere anche solo una pagina perché voleva che lo stile fosse impeccabile e lo dice lui stesso in alcune lettere, non sto inventando niente, e un'altra cosa interessante è che questo romanzo è stato da molti definito come un poema in prosa, un poema in prosa perché per l'uso di uno stile estremamente elegante, raffinato, colto, si sente che è uno stile pensato, elaborato, coltivato nel tempo, va bene, usa tantissime similitudini, l'arma segreta di Flaubert sono le similitudini, non tanto le metafore ma proprio gli accostamenti, vedremo quando Emma descrive proprio la piattezza del marito, Charles è proprio noioso, monotono e dice i suoi discorsi sono piatti come il marciapiede, è interessante, ce ne sono tantissimi di questo tipo, ma sono una miriade, usa metafore ma soprattutto usa il discorso indiretto libero, usa il fatto di non far mai parlare sé perché vedremo che l'autore scomparirà ma userà il principio dell'imparzialità, quindi dal punto di vista dello stile questo romanzo segna uno spartiacque straordinario nella letteratura moderna di tutta l'Europa tra quello che era prima e quello che viene dopo, questo segna proprio uno spartiacque perché adesso in questo romanzo vale il principio dell'imparzialità e il principio come lo definisce lo stesso Flaubert dell'impassibilità, l'autore deve essere impassibile cioè deve essere impersonale, non si deve più sentire, lo stesso Flaubert vi cito una sua lettera che scrive a Louise Colet, sua amante e sua corrispondente epistolare, scrive, è Flaubert questo che le scrive, l'autore deve essere nella sua opera come Dio nell'universo, vedete l'autore è come Dio presente dovunque e non visibile in nessun luogo, ecco questo è interessante, è la stessa cosa che poi faranno i veristi italiani, pensate a Verga, Verga lo dice nelle sue lettere, il lettore deve conoscere i personaggi, li deve capire da come si soffiano il naso, quindi non devo più spiegarlo io autore il personaggio, non sono più i romanzi di Daniel Diffo tipo Robinson Crusoe, sono nato a York nel 1700, vivo a Londra, sono nato, padre era, avvocato, mia madre era, no non ci sono più queste cose, basta, il lettore deve capire il personaggio da come si soffia il naso, l'opera deve sembrare essersi fatta da sé, non si deve più sentire, quindi non c'è più, vedete lo stile, non c'è più il narratore onnisciente come nei Promessi Sposi, quell'autore come Manzoni che dall'alto vede, sa ogni cosa e ogni tanto interviene all'interno dell'opera, ecco, in Madame Bovary questo non succede più, Flaubert diventa impassibile, il principio dell'impassibilità deve essere fondamentale, l'autore scompare e lascia che siano i personaggi a parlare per lui, questo è fondamentale, questo tipo di scrittura segna lo spartiacque tra il prima e il dopo, infatti è per questo che per molti scrittori Flaubert è il padre del naturalismo francese, lo vedono come loro capostipite, come colui che ha dato il via a un nuovo modo di fare scrittura, per altri invece è ancora, potremmo dire così, un prosecutore, un ultimo continuatore, un tardo continuatore del romanticismo, ma perché? Perché ci sono elementi romantici ma non è più un romanzo romantico, non lo si può definire assolutamente così perché i personaggi vivono nella Francia degli anni 30 e 40, vivono a Rouen all'inizio, che è una città e che esiste davvero, poi invece vanno a vivere a Yonville e a Tost, che sono due cittadine inventate di provincia, però è un mondo borghese, è un mondo di provincia normalissimo, insomma non c'è niente di romantico in questo, ma anche appunto per lo stile, soprattutto lo stile, ricordatevelo, segna lo spartiacque per la scrittura moderna, tutto quello che verrà dopo non è inventato, vedete il naturalismo non nasce così di colpo il giorno dopo del romanticismo, ma nasce un po' alla volta e poi vedremo che il primo romanzo realista a tutti gli effetti è Germenille Asserteux dei frantelli de Goncourt, faremo una lezione anche su Germenille Asserteux, molto interessante questa serva che viene stuprata e vedremo poi quali saranno gli effetti, interessante la prefazione perché lì gli autori diranno chiediamo scusa al lettore per quello di cui stiamo per parlare, perché il tema è assolutamente innovativo, sono personaggi comuni, non ci sono più le storie dei nobili, degli aristocratici, ecco ma adesso abbiamo la persona comune, loro dicono il nostro romanzo viene dalla strada, è quello che succede anche qui in Madame Bovary di Flaubert, Emma è una persona comune a tutti gli effetti, quindi mi raccomando perché ecco è proprio un romanzo quindi realista, naturalista, pur contenendo però degli strascichi romantici e per questo che da molti Flaubert è definito anche come il tardo continuatore del romanticismo e poi ci torniamo, quindi la lettura progressiva per gradi è fondamentale, adesso passiamo anche i contenuti perché altrimenti siamo troppo lunghi e non va bene, voglio che sia una lezione anche divertente, che ci possano capire molte cose. Allora parliamo di Emma, Emma è proprio la protagonista del nostro racconto, figlia di un contadino, ma Emma odia la campagna, lei vive in campagna però la odia, perché? Perché da bambina è stata educata in città in un convento di suore, quindi ha ricevuto anche una certa educazione, ma è l'educazione classica che si dava a tutte le bambine dell'epoca, quindi sa cucire, sa cantare, quindi sa un po' di musica, sa suonare, ha letto molti romanzi, dopo ci arriviamo su questo, ha imparato la lingua straniera, le solite cose che insegnavano a tutte le bambine della medio alta società, perché il padre comunque non è ricco, però diciamo ecco che ha di che vivere, quindi riceve una discreta educazione, ma non è colta, attenzione, lei è intelligente, è anche sensibile, non è stupida, però ha una educazione superficiale, cosa voglio dire? Che lei quando legge i romanzi, perché in convento non ha niente da fare, quindi la maggior parte del tempo la passa a leggere i libri, ma lei, e questo sottolineatelo bene, è una cattiva lettrice, Emma è proprio una cattiva lettrice, cioè non sa come si leggano i libri e infatti sbaglia in pieno, perché? Perché lei quando legge le storie si immedesima nei personaggi, voi direte cosa c'è di male, no? Perché lei si immedesima nei personaggi, ma inizia nel tempo a identificare se stessa con l'eroina del libro che sta leggendo, con l'eroina della storia, quindi a poco a poco Emma abbatte quella linea sottile che divide la realtà dall'immaginazione, cioè non riesce più a distinguere quello che è reale da quello che invece è fantastico, da quello che è inventato, e perché dico questo? Perché questa è la chiave di lettura di tutto il libro, mi raccomando, cioè a un certo punto lei inizierà a sognare quelle stesse cose che legge nei libri, cioè lei inizierà a sognare la vita delle eroine, inizierà a voler vivere le loro stesse avventure, a provare le stesse emozioni che lei sente soltanto attraverso il filtro della letteratura, ma lei non la sa interpretare e leggere nel modo corretto e questo è il problema, quindi lei essendo una cattiva lettrice nel tempo identifica se stessa con le eroine, non riesce più a separare la realtà dall'immaginazione, questo è il problema e pensate per esempio che quando avrà una bambina con Charles, mentre pensa i nomi da dare alla bambina, vorrebbe anche chiamarla Isotta tra le varie ipotesi, perché? Perché allude alla storia di Tristano e Isotta, i due amanti che poi muoiono entrambi, questa tragedia in cui poi muoiono tutti e due in questa storia molto antica, quindi lei di che cosa si nutre? Si nutre di eroine, lei legge anche Walter Scott, va bene, legge i romanzi importanti, legge Victoria Hugo, quindi legge tutte storie però sentimentali, strappalacrime, legge di eroine che vivono storie inimitabili, che vivono grandi avventure galanti, soprattutto le storie d'amore, quindi lei legge soprattutto romanzi rosa, romanzi in cui ci siano avventure galanti, dove ci sono molti amori adulteri e infatti vedremo che poi lei tradirà il marito con ben due, con ben due uomini diversi, con Rodolfo e con Leon, va bene? E quindi è interessante perché poi lei effettivamente mette in pratica quello che legge, ma è una cattiva lettrice, cioè lei si ammala per colpa della lettura e questo è il problema, è un po' come Fosca di Gini e Ugo Tarchetti, faremo una puntata perché pochi lo conoscono, anche lì Fosca si ammala, legge tantissimo, ma lei vive la stessa vicenda di Emma praticamente, è uguale, anche lei legge, si ammala, insofferente, non riesce a vivere, infatti poi alla fine morirà anche Fosca, però quello che è interessante, dicevo, è che a poco a poco quindi Emma non distingue più la realtà dalla fantasia e infatti in che cosa lei è romantica, però io la definisco romanzesca, non romantica, perché? Perché vuole vivere la stessa vita dei romanzi, in realtà lei non è romantica, perché? Perché il vero romantico, chi è? Pensate al Werther, a Jacopo Ortiz, pensate quindi a Goethe, pensate a Foscolo, pensate a Vittorio Alfieri, quella persona che vuole vivere una vita straordinaria, che ama la tempesta, il sublime, l'abbiamo visto mille volte, lo sapete, pensiamo quindi al Titano, a colui che vorrebbe combattere contro la società, però proponendo anche un'alternativa, colui che soffre nella sua società, che ama magari il passato, pensate allo stesso Alfieri che dice ma non mi piace il vil mio secolo mai, non mi è mai piaciuto il mio secolo vile, vorrebbe vivere una vita diversa, in questo per carità lei è anche romantica, ma non è più quel desiderio di libertà assoluta, di libertà totale, non è più quel desiderio di tendere a un assoluto infinito come Leopardi, e questo è il discorso, lei è romanzesca, lei sembra romantica, ma non lo è, e poi capiremo anche il perché, adesso ci arrivo, mi raccomando, perché dicevo è romanzesca? Perché lei in realtà vuole vivere le vite delle eroine dei romanzi che leggi in convento, è questo il discorso, quindi lei si è insofferente all'epoca in cui vive, siamo all'epoca di Luigi Filippo, quindi siamo tra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, dicevo, e lei appunto ha questa malattia, cioè poco a poco si ammala, soffre e ha questa insoddisfazione continua, e non vi fa venire in mente lo splin, la malinconia dei decadenti, lei è anche decadente, questo è interessante, perché ha questo male di vivere interiore, vedete la crisi dell'uomo moderno anticipa tutto quello che verrà dopo, per farvi un esempio letterario, Emma passa i suoi giorni, perché il marito lavora, lei non ha niente da fare tutto il santo giorno, e che cosa fa? Passa tutti i suoi giorni alla finestra, cioè finché non incontra poi i suoi amanti, passa tutto il giorno alla finestra, guarda fuori e sogna, sogna quelle vite che lei non potrà mai vivere, e si immagina fantastica sulla vita che vorrebbe vivere, quindi si crea tutti dei castelli di carta, va bene, tutti delle storie inventate che non esistono, e così non fa altro che soffrire, perché lei nutre continuamente questa sua infelicità, è tutta una questione mentale, va bene, questo è il problema, ma che cosa rappresenta la finestra? Perché ve l'ho citata? Perché la finestra ritorna in Ungaretti, in Montale, la finestra può essere paragonata anche al muro di Montale, alla siepe di Leopardi, vedete quanti strati, questo progressivo di panarsi di contenuti e di significati diversi, pensate alla finestra, la finestra è il confine, lei è dentro la casa e quello che c'è fuori è quello che lei non può avere, quindi il dentro è la vita opprimente, lei vive in gabbia, non si sente soffocare in questa società di banche e di imprese industriali dove vale solo la logica del profitto, la legge del più forte, per citare Verga, il più forte vive e il più debole soccombe, viene vinto da tutti gli altri, quindi pensate ai Malavoglia, pensate al Mastro Don Gesualdo e così via, e cos'è l'esterno, il fuori? È la vita che non può vivere, è quella vita fantastica che non può avere, che vive solo attraverso il filtro della letteratura, quindi la letteratura per lei è un male perché non la nutre ma la avvelena e questo è il problema, vedete, quindi quell'interno esterno non rappresenta solo fisicamente la casa e il mondo esterno ma anche l'interiorità della sua anima che rappresenta appunto la casa e l'esterno che è quello che vorrebbe avere, quindi vedete a poco a poco lei si crea questo mondo immaginario e quindi la realtà si scontra continuamente con le sue fantasticherie, l'ideale che non trova poi corrispondenza nella realtà, questo è il bovarismo, il famoso concetto del bovarismo che è stato coniato tra l'altro da uno scrittore francese, va bene, che si chiama D'Aurevilly, non so il francese quindi lo leggo così, D'Aurevilly, cos'è il bovarismo? L'abbiamo sentito più volte il concetto di questo bovarismo che nasce proprio con questo romanzo, è semplicemente questo conflitto, il bovarismo è l'idea di conflitto tra questo desiderio di evadere da una realtà che non soddisfa, che genera solo insoddisfazione, infelicità e poi lo scontro con l'impossibilità di realizzare questo sogno, quindi il desiderio di voler evadere, di avere una vita diversa e l'impossibilità della sua realizzazione, quindi il termine bovarismo implica proprio un conflitto, un contrasto, qualcosa anche di ossimorico perché vorrei una cosa ma non la posso avere, questo è il concetto di bovarismo, quindi il bovarismo esprime un'idea di un conflitto che genera una insoddisfazione continua e infatti Emma ricerca per tutta la vita quell'ideale nella realtà, pensate la ricerca incessante, la vuole trovare sia nel marito sia nella vita e questo è il problema, quindi non la ricerca solo a livello macroscopico ma anche nelle persone, questo è il problema, cioè lei vuole un marito diverso da quello che è, vorrebbe un marito a sua immagine e somiglianza ma non lo potrà mai avere perché non esiste e questo è il problema, l'abbiamo detto prima, i suoi discorsi erano piatti come il marciapiede, quindi la finestra quando lei si mette lì ad osservare, una vita contemplativa, osserva, lei è una spettatrice, si vede vivere ma non vive, non vi fa venire in mente Pirandello, il fumatì a Pasquale, vedete anticipa la crisi dell'uomo moderno, Emma è tutte queste cose, è proprio la crisi dell'uomo moderno, quella finestra è il Limes, il confine che Montale non può superare, Montale cerca l'anello che non tiene, cerca il punto morto del mondo, tu va e vadi, fuggi se puoi, a me invece resta tutt'altro, mi sarà meno acre, meno pesante la ruggine, Emma non è così perché purtroppo non c'è il varco, non c'è il punto da cui evadere, infatti Emma soffre, quindi lei che cosa fa per citare la letteratura medievale? Lei ricerca per tutta la vita un santo graal che non esiste, il suo santo graal è quella vita diversa da quella che ha, da quella che vive, che è costretta a vivere, quindi da questo punto di vista lei è un uccellino in gabbia, lei è insofferente, lei è vittima della società perché rappresenta, ho detto, la crisi dell'uomo moderno ma rappresenta anche la crisi di una società borghese che, e soprattutto anche degli artisti, dei letterati, che guardano con rimpianto ai grandi ideali romantici però hanno anche la consapevolezza che quel mondo e quegli ideali sono morti e sepolti, guardano un mondo che non esiste più perché come dice Verga adesso viviamo in un mondo di banche e di imprese industriali, cioè in un mondo in cui domina solo la logica del profitto, l'arte lo dice Verga diventa un lusso per scioperati, dice i grandi del passato ci hanno lasciato i templi, le cariatidi, le statue, noi dice lasceremo soltanto delle piccole immagini sulle scatolette dei fiammiferi per far capire quanto l'arte si sia ridotta a una pura merce, diventa un mercimonio, Baudelaire, l'artista è una prostituta perché? Perché si prostituisce al mercato, la grande colpa dei borghesi è proprio questa, quella di avere mercificato l'arte, di averla quindi svalutata e di averla quindi tolta dal piedistallo, di averla de-liricizzata, de-contestualizzata e soprattutto di averla tolta da quel ruolo enorme che aveva prima, pensate all'Albatros appunto di Baudelaire che viene preso dal suo regno, dai marinai, gli viene messo il cappello in testa e viene schernito, è la stessa cosa, quindi dicevo la finestra per Emma è proprio quella sepe oltre la quale non si può andare, pensate a Leopardi, è lo scalcinato muro di Montale con i suoi cocci aguzzi di bottiglia, la vera vita è al di là, è quel mare che sento ma che non posso avere, questa è Emma, una ragazza anche molto bella, carina, insomma attraente, Charles ovviamente l'ama di vero cuore perché vede in lei quello che lui non ha, cioè questo desiderio di evadere, questo fatto di essere una sognatrice ad occhi aperti, cioè lei ha questo impulso a voler vivere, lei sarebbe piena di vita ma non trova il modo per realizzare questo suo desiderio, questa sua aspirazione, quindi lei vive una cat, una ricerca infinita, la cat in francese proprio la ricerca incessante, infinita, che non ha però poi alcun esito, quindi è un santo grale impossibile da trovare. Il marito dicevo è un medico, Charles Bovary è un medico assolutamente mediocre, noioso, non è neanche molto colto, non è molto bravo, tant'è vero che poi c'è l'episodio dell'operazione, bisognava operare un uomo ai piedi perché aveva un piede storto e vedete Emma spera che il marito abbia successo perché vorrebbe che il marito diventasse famoso in tutta la Francia, vorrebbe che il suo nome, il cognome Bovary richeggiasse in tutti i salotti, in tutte le città, però il marito fallisce, l'operazione non va a buon fine e quindi non diventa famoso, vedete? E quindi dicevo perché Emma in realtà non è romantica o romanzesca ma in realtà è borghese perché per Flaubert, quindi ci arriviamo, cosa significa borghese? Borghese non è una condizione economica per Flaubert, è per l'autore, ma è una condizione mentale e spirituale, cioè il borghese chi è? Colui che è attaccato ai beni materiali, che dà valore solo all'aspetto materialistico della vita e soprattutto colui che ha dei valori tradizionali, quindi che crede ciecamente in certi valori tradizionali ed Emma è uguale al marito da questo punto di vista, cioè è borghese come suo marito, perché? Perché, vabbè, Charles è il medico, è colui che non ha nessun tipo, è di inventiva, che non ha creatività, Charles non capisce il teatro, quando loro vanno a teatro a vedere l'opera, quelle poche volte che accontenta la moglie, lui non capisce il teatro, perché? Perché il vero borghese, vedete, non capisce l'arte, ecco un altro elemento che anticipa poi Verga e tutti gli altri, no? L'artista viene emarginato perché questi borghesi non capiscono l'arte, non la comprendono, parlano una lingua diversa, palazzeschi vi ricordate, e lasciatemi divertire, gli uomini non hanno più nulla da chiedere ai poeti, no? E le persone dicono ma sembra che parli giapponese, l'incomunicabilità, vedete, non c'è più comunicazione, il poeta Vatte non esiste più, vedete quante chiavi di lettura, dicevo il marito è un classico borghese, è anche poco colto perché ha tutta una serie di libri di anatomia, di medicina, che non legge mai, dice sono in ton sì, quindi ricorda un po' la zecca garbugli, no? Che non apre mai i libri, dicevo, però Emma è borghese anche lei, perché che cosa sogna Emma in fondo, in sostanza? Lei che cosa sogna? Quelli sono i suoi desideri, di vivere una vita diversa, ma che tipo di vita? Una vita nell'alta società, lei sogna Parigi, quindi la grande città della cultura, della politica, dell'economia, i grandi salotti, no? L'alta società borghese, lei sogna i balli, le feste, il cinema, lei sogna i balli, le feste, il teatro, va bene? Sogna di andare quindi nei salotti, di incontrare i nobili, i marchesi, i conti, i duchi, lei sogna quella vita ricca, perché lei ama il lusso, lei lo ama, lo vorrebbe, perché loro non sono molto ricchi, vivono una vita mediocre, ecco questa mediocrità la soffoca, la distrugge, però se vedete lei non è romantica, ma è borghese, perché ha delle aspirazioni borghesi, vorrebbe semplicemente salire la scala sociale, tutto qui vorrebbe una vita migliore, ma non vorrebbe quella vita di assoluta libertà totale come i veri romantici, per questo detto è romanzesca, ma non è romantica, ecco la chiave di lettura, vedete? Quindi lei sogna una vita che non potrà mai avere e per questo motivo si ammalerà, noi diremmo oggi ha la depressione, alla fine si deprime, gli viene la depressione, anche lì il marito non lo capisce, a un certo punto lui pensa che lei sia malata, che sia semplicemente infelice per la sua situazione, così pensa si sia malata, la scambia per isteria all'epoca, nel secondo ottocento, quando si inizia a trattare così della psiche, non c'è ancora la psicanalisi, sta iniziando ad arrivare Freud, insomma però quando siamo ancora agli inizi si parlava molto di isteria, ecco si inizia a studiare questi casi di donne isteriche che urlano, che sembrano infelici, in realtà noi diciamo oggi sono semplicemente depresse sostanzialmente e poi alla fine è talmente insofferente perché lei vive questa mediocrità come qualcosa che la soffoca, alla fine lei si suicida, prende l'arsenico e si suicida, quindi si avvelena e muore, però ecco anche questa malattia non è compresa dal marito, però il marito la ama, è interessante poi notare l'analogia ma anche l'opposto, il contrasto tra le due vicende perché Charles all'inizio si sposa con la vedova Dubuc, però la vedova lo ama davvero, lui invece non è innamorato di lei, è stato un matrimonio combinato, vedete il classico matrimonio borghese, però vedete lui non ama lei ma lei invece lo ama davvero, poi Charles subirà lo stesso destino, quindi ci viene anticipato poi il fallimento del matrimonio successivo perché lui amerà davvero lei, quindi le sarà devoto, ma lei invece non lo ama, quindi poi lui subisce quello che aveva causato alla prima moglie prima, vedete? E questo è interessante, quindi c'è questa già anticipazione e poi questo contrasto. Quindi vedete Charles ed Emma sono molto diversi tra di loro, però sono entrambi dei borghesi, questo è interessante, Charles com'è? Lui è noioso, è lento, è monotono, è veramente privo di qualsiasi stimolo, ecco lui sembra proprio placido, lui proprio si bea, proprio lui è tranquillo, si adagia sugli allori perché lui ha avuto la moglie, quella ragazza che tanto gli piaceva e lui vive nella contemplazione di lei, lui ama davvero sua moglie però si accontenta, cioè proprio vive una vita piatta, monotona, non ha nessuno stimolo, sembra anche non avere grandi interessi a parte il lavoro, lui parla solo di lavoro ma chiaramente Emma ne è assolutamente annoiata e che cosa dice la stessa Emma a proposito del marito? Dice avrebbe potuto essere bello, intelligente, distinto, attraente come erano gli uomini che avevano sposato le sue compagne del convento, questo ovviamente vabbè è l'autore che parla, il narratore, vedete ma la sua vita era fredda, questo è interessante, vedete avrebbe potuto essere bello, intelligente, attraente, io aggiungerei anche intrigante come i mariti delle sue compagne del convento, ma non è stato così, quindi Emma in realtà è romanzesca perché ha questo atteggiamento mentale sognante che tende alla fantasticheria, cioè lei indugia sulle possibili realtà che avrebbe potuto vivere ma che non vive, quindi è sensibile, però sogna ad occhi aperti, ecco il bovarismo, il desiderio di evadere e quindi se c'è l'evasione significa che lei vive in gabbia, però dall'altro lato si scontra con una realtà che è completamente diversa, allora voi direte ma perché si è sposata, perché ha preso Charles, perché lei viveva in campagna col padre della stufa morta e vede nel matrimonio una possibilità di evasione, cioè lei pensa che quel matrimonio le possa dare la felicità, ma non è così, pensa che sia un matrimonio come quello delle sue compagne e come quello letto nei romanzi, poi invece scopre che passa da una campagna a una cittadina di provincia che è altrettanto monotona e piatta, quindi il marito poi sbaglia, l'operazione non diventa famosa, ma lei sogna la fama, il lusso, vedete lei ama i nobili, quando viene invitata a un ballo da un marchese è felicissima perché andare a ballare significa per lei evadere, vivere una vita diversa, infatti per lei nel ballo si sente viva, si sente attiva, riceve degli stimoli, lei deve essere stimolata e infatti sogna a Parigi, per questo ho detto che è borghese, perché in realtà ha gli stessi identici ideali di tutti gli altri borghesi, non ha ideali romantici, l'unica cosa romantica per lei è proprio quello di avere questa continua e incessante ricerca di una vita diversa, ecco la cat, la ricerca di questo suo santo graal moderno non finisce mai, cioè non si stanca mai di cercare, però alla fine purtroppo presa anche così da una crisi di nervi crolla e infatti alla fine poi si suicida, però il suicidio non è un suicidio eroico e questo è il problema, lei si suicida perché ha il male di vivere, perché è talmente insofferente che non ne può più, ma non è un suicidio eroico, lei non è che si uccide perché non riesce a contrastare la società con i mezzi che ha a disposizione, non gli interessa niente degli altri, lei vorrebbe una vita diversa per se stessa, quindi non è assolutamente romantica, è romanzesca, niente di più ed è un romanzo estremamente quindi moderno ed è quindi appunto realista. Ecco concludiamo quindi solo con due accenni alla storia vera e propria, io spero che questa lezione vi sia piaciuta molto, dicevo all'inizio quindi Charles diventa medico, si sposa con una prima moglie però poi appunto il matrimonio finisce perché lei muore di infarto, quello che volevo farvi notare sono due o tre analogie, la prima moglie muore di infarto perché? Perché aveva affidato tutti i suoi beni ad un avvocato, un notaio, adesso non ricordo, comunque uno dei due o un notaio o un avvocato, ma questo appunto funzionario scappa con tutto il denaro, fugge una parte, adesso non mi ricordo bene se lo ha dilapidato oppure se fugge, comunque è un funzionario disonesto e quindi la moglie perde tutti i suoi beni disperata, poi gli viene un colpo e muore quindi di infarto. Quello che è interessante è che questo primo matrimonio di Charles praticamente è un matrimonio premonitore, è una sorta di profezia perché anticipa quello che succederà dopo, perché? Perché abbiamo detto lei lo amava di vero cuore e lui invece era indifferente alla moglie Dubuc, alla vedova Dubuc. Nel secondo matrimonio con Emma invece è lui che adora lei, ma lei non se lo fila proprio per niente perché dice aspettavano che questo amore venisse ma l'amore non veniva mai, cioè lei non è innamorata, è stato solo un modo per evadere ma non è innamorata. E poi cosa volevo dire? Ecco interessante perché entrambe le donne, va bene? Entrambe le donne vivono un tracollo finanziario, cioè entrambe portano la famiglia all'astrico, sull'astrico, cioè portano la famiglia a dilapidare il patrimonio, solo che nel primo caso non è colpa della moglie ma è colpa di chi gestisce il denaro per suo conto. Nel secondo caso invece Emma, questo episodio importante bisogna dirlo, quindi vedete tutte le anticipazioni, le analogie, com'è tutto legato in questa storia, in questa vicenda e come ci siano quindi poi anche dei contrasti. Perché dicevo questo? Perché anche Emma a un certo punto, quindi sognando questa vita, si innamorano di ben due uomini. Prima si innamora di Rodolfo e poi di Leon, ovviamente uno è un praticante in uno studio di avvocato, quindi sono tutti comunque dei borghesi, sempre personaggi mediocri, vedete della media borghesia, quindi che non possono offrire ad Emma una vita nostra ordinaria, questo è insomma il nocciolo. Però quello che è interessante è che lei è estremamente borghese, perché? Perché tradisce con un metodo estremamente banale e convenzionale di tutti i borghesi, cioè l'adulterio. Vedete lei, qual è il suo unico strumento per ribellarsi a questa società? L'adulterio. Tradendo il suo marito, lei cerca quindi di evadere da un lato, ma anche di ribellarsi a questa società. È l'unico strumento che ha a disposizione, lei non è come Alfieri, non è come Jacopo Ortis che può combattere, che può vivere in maniera diversa, non sarà mai come un dannunzio che vive una vita inimitabile. L'unico strumento che ha è la sua bellezza, insomma un po' il suo fascino, la sua carineria e quindi tradisce il suo marito. Ecco, l'adulterio, vedete, quindi un modo estremamente banale. Quello che volevo dire quindi è che a un certo punto lei, vivendo queste storie galanti, si sente viva, si sente elettrizzata, però a un certo punto queste storie non le bastano più. Cioè ogni volta che lei torna dal incontro galante, lei si sente vuota. Cioè avete presente come quando torniamo a casa da una festa, da un qualcosa e ci sentiamo quel vuoto dentro. Ecco, Emma vive la stessa cosa, quel vuoto che non riesce a colmare, quel male di vivere, quell'insofferenza, quello splin, quel male di vivere, quella depressione che non se ne va mai via. È la condizione dell'uomo moderno, è una società in crisi, è l'artista che viene messo da parte, è il mondo di banche e di imprese industriali che non ascolta più i poeti, che non ha nulla più da chiedere agli artisti, direbbe Palazzeschi e lasciatemi divertire. È la fine di un'epoca, vedete? E quindi cosa fa Emma? Inizia a comprare vestiti, a comprare gioielli, quindi si indebita, fa un debito di ben 8.000 franchi che non può più restituire, chiaramente, e a un certo punto quindi arriva l'ingiunzione del tribunale, quindi arrivano gli ufficiali giudiziari per pignorare i mobili, tutti i beni che hanno, gioielli, vestiti, mobili, e solo allora Charles scopre quello che ha fatto Emma, perché Charles non si accorge assolutamente di nulla. Cioè lui è proprio il medico mediocre che vive tranquillamente la sua vita, placido. Per questo detto non si può neanche definire totalmente realista dal punto di vista della storia, perché, ascoltate, lei lo tradisce per anni, per mesi. Come fa a non accorgersi il marito di nulla? Com'è possibile che in un piccola cittadina qualcuno non inizia a spettegolare, non arrivi un pettegolezzo, una voce, una pulce all'orecchio del marito? Di notte non sente che il letto è vuoto? Non si sarà mai svegliato una notte perché era insonne, perché aveva bisogno di andare al bagno? Poi c'è un bambino di 14 anni che ha il terrore del sangue e delle siringhe, però va di notte a pregare sulla tomba della madre al cimitero di notte, però è terrorizzato da una siringa. Quindi la storia non è tutta veramente realistica, ci sono dei punti che non stanno in piedi, ci sono delle contraddizioni, però non si può dire che non sia realista per temi, per contenuti e soprattutto per atteggiamento mentale, perché ripeto il borghese è colui che dà importanza agli aspetti materiali e ai valori tradizionali. Quindi dicevo lei a un certo punto si indebita per comprare gioielli, per vivere quella vita galante che non ha per andare i balli alle feste, per pagare l'albergo perché lei si incontra sempre nelle camere d'albergo, comunque non a casa sua, ecco questo no. E quindi a un certo punto vedete è sull'astrico, Charles scopre quindi quello che non può più impedire, perché lui ha uno stipendio normale e quindi vedete la famiglia va sull'astrico. Quindi succede la stessa cosa della vedova Dubuc, solo che lei poverina non aveva colpa e muore di infarto. Emma disperata sia per il tracollo sia perché non riesce più poi a uscire da questa depressione che diventa sempre più violenta, si suicida, corre da tutte le parti prima del suicidio, cerca di chiedere quindi aiuto a tutti, cerca denaro in prestito ma ovviamente nessuno più le fa credito e alla fine quindi prende l'arsenico e si suicida, si mette sul letto e muore. Insomma sembra proprio un'eroina, sembra Romeo e Giulietta, sembra Tristano e Isotta, sembra veramente un'eroina anche delle tragedie di Shakespeare da questo punto di vista e muore quindi sul letto e Charles però vedete non capisce fino alla fine questa sua malattia, non ha mai capito perché lei si sia malata, perché lei sia così insofferente, cerca delle risposte che non esistono. Ecco vedremo magari in un'altra lezione questo tema della donna quando viene analizzata da un punto di vista esclusivamente scientifico, come fa lo stesso Flaubert perché anche in questo romanzo effettivamente lo dice lui stesso, non tratta l'amore dal punto di vista romantico, quindi non è una semplice introspezione psicologica così romantica ma è una vera e propria analisi puntuale e impassibile, nel principio dell'impassibilità, di una condizione patologica di questa persona che effettivamente si deprime e cade in depressione perché di fatto è quello che succede. Lo vedremo anche con Fosca, magari approfondiremo questo aspetto anche da un punto di vista medico perché nell'ottocento dicevo si fanno delle analisi a queste persone, si fanno delle analisi veramente scientifiche, si inizia a studiare la psicologia femminile perché prima venivano descritte solo come persone isteriche, persone così magari un po' insoddisfatte, sapete un po' annoiate, che iniziavano a strillare, a svenire, quindi vedremo svenimenti, urli, isterie, va bene ecco però cercheremo di capire come verranno trattate anche in letteratura da un punto di vista esclusivamente clinico, infatti Fosca, l'autore di Fosca dirà, il personaggio dirà io questo amore non l'ho vissuto ma l'ho subito, però più che la descrizione di una storia d'amore vi farò l'analisi di una malattia, vedete ecco qui è la stessa cosa, viene analizzata una persona che si cade in depressione ma in realtà i germi della depressione li aveva già quando era in convento e quando era piccolina perché lei vive in campagna ma è sempre insofferente e ricerca questa felicità dappertutto ma non la troverà mai, questo è il vero bovarismo, vedete una crisi da cui l'uomo moderno non può più uscire, non riuscirà più a trovare un punto fermo e la sua felicità. Io spero che questa lezione vi sia piaciuta molto, spero di avere dato molti stimoli, poi eventualmente per avere un riassunto dell'opera, insomma cercate su internet, ce ne sono tantissime, io ho toccato i punti più importanti, sicuramente ci sarebbe molto altro da dire però ecco spero di avervi dato un'idea di che tipo di romanzo sia, quindi Madame Bovary non è né romantico né realista né decadente ma è tutte e tre queste cose messe insieme, è la summa, è un mix di tutte queste cose, è veramente un insieme di elementi di tutto ciò perché effettivamente Flaubert racchiude tutte queste grandi esperienze dell'Ottocento, ricordatevi però questo che romanticismo, naturalismo, decadentismo non vengono uno prima, uno dopo ma spesso sono contemporanei perché questi movimenti letterari e poi chiudo sono semplicemente punti di vista diversi per descrivere la stessa realtà, cioè è come se un romantico, un decadente, un realista guardassero la stessa realtà con tre paia d'occhiali diversi, tutto qui, questo è l'importante, cioè loro descrivono la stessa realtà che vedono da tre punti di vista diversi, fatemi sapere se questo tipo di lezioni vi piacciono perché tratteremo anche un po' di storia della letteratura, vedete mixata magari partendo da una storia di un romanzo vero e proprio, faremo lezioni sul romanticismo, sul decadentismo perché sono veramente temi molto importanti, fatemi sapere se avete poi degli approfondimenti, delle domande, delle lezioni particolari, ecco un po' alla volta nel tempo, abbiate pazienza, ci vuole tempo, tratteremo veramente di tutta la letteratura, faremo approfondimenti, cercheremo quelle cose che a scuola magari non abbiamo anche il tempo di spiegare, ci prendiamo il caffè letterario per discuterne di più, però ricordatevi che questi movimenti letterari spesso sono contemporanei, l'ultimo esempio poi vi lascio, pensate al realismo e al decadentismo, sono veramente uguali, cioè dello stesso identico periodo, perché pensate soltanto al 1881, nell'81 esce I Malavoglia, il romanzo quindi di Verga, va bene che è verista e contemporaneamente che cosa esce? Esce Malombra di Antonio Fogazzaro che invece è già decadente, pensate già al 1856-57 Madame Bovary che abbiamo visto essere un mix di tutte queste cose però principalmente realista, lo stesso anno escono I Fiori del Male, Le Fleur du Mal di Charles Baudelaire che non è assolutamente realista, quindi vedete non imparate a memoria per settori perché sono tutti punti di vista diversi della stessa realtà, è come se io e te, se io e voi parlassimo della stessa cosa che abbiamo visto però da due punti di vista differenti, questa è la vera letteratura, bisogna ragionare, bisogna trovare gli elementi comuni e gli elementi di distinzione in ogni opera. Vi ricordo per alcuni Flaubert è stato il padre, l'anticipatore e l'iniziatore del romanzo moderno, naturalista, per altri invece è un tardo continuatore del romanticismo, secondo me è un mix di entrambe le cose perché Madame Bovary è contemporaneamente romanzesca ma è anche estremamente borghese per le sue aspirazioni estremamente banali, quotidiane e anche la stessa arma con cui si ribella è veramente di una banalità estrema che è l'adulterio, l'unica arma che ha a disposizione. Spero che questa lezione vi sia veramente piaciuta, ci vediamo presto ragazzi sul caffè letterario, un saluto dal vostro Prof 2.0, ciao a tutti!